E servire per cambiare vite, il motto del Presidente internazionale del Rotary, trova piena realizzazione nel progetto Ucraina portato avanti dal Rotary Club di Crotone. Il Rotary Club di Crotone, da sempre presente sul territorio per affrontare le problematiche che lo riguardano, si pone oggi come catalizzatore e coordinatore delle forze sociali della città al fine di ottimizzare gli interventi d'accoglienza e sostentamento dei numerosi profughi giunti sul nostro territorio. Anche a Crotone nei giorni scorsi sono giunti dall'Ucraina, dilaniata dalla guerra, i primi profughi in fuga. Si tratta di mamme e bambini di tutta l'età che hanno trovato alloggio presso i due centri, Casa di Chiara e Dame, rapidamente organizzati e pronti ad accoglierli. È stata immediatamente chiara la necessità di codivare questi centri privati al fine di provvedere alle prime urgenti necessità dei profughi, da qui l'urgenza di coordinare i vari soggetti sociali al fine di non duplicare gli interventi rendendoli meno incisivi. In pochissimo tempo sono giunte forniture di beni di prima necessità, alimenti per l'infanzia e per la prima colazione, alimenti freschi, prodotti per l'igiene personale, oltre alla fornitura di pasti caldi già da questa settimana. L'azione non si è limitata alla sola fornitura di beni materiali, ma il Rotary di Crotone in collaborazione con le altre associazioni in rete, grazie ai tanti volontari della Cimeop Crotone con il suo personale sanitario, è riuscito a fornire assistenza sanitaria ai bambini, nonché a coordinare le importanti attività di registrazione per provvedere poi alla vaccinazione dei soggetti non ancora vaccinati per il Covid. Nei prossimi giorni verranno espletati tutti gli edempimenti burocratici finalizzati all'inserimento scolastico dei bambini giunti dai territori di guerra. Anche l'ASD Pallavolo di Crotone ha dato la disponibilità per l'inserimento dei bimbi e dei ragazzi nelle attività pomeridiane per fare trascorrere qualche ora di speresieratezza.